Intervento necessario oggi attorno alle 12 per i sanitari del SUEM, 118 di Bassano che sono stati chiamati a San Zenone degli Ezzelini. Un uomo del posto, 61enne, stava infatti tagliando alcuni rami da un albero sopra di una scala quando la motosega gli è sfuggita di mano. Grossa ferita per lui all'avambraccio, l'uomo è stato subito trasportato all'ospedale di Via dei Lotti dove si trova tuttora ricoverato.